benvenuti nella mia solita diretta del giovedì sera tra poco partirò con rispondere alle domande che mi avete già mandato via email o però da fare un annuncio prima ovvero sto valutando di raddoppiare questi appuntamenti cioè le dirette con le vostre domande e quindi sto pensando di farne un'altra oltre quella del giovedì sera che rimarrà sempre o lunedì o martedì nel tardo pomeriggio dalle 18 alle 19 per ora l'opzione che sembra essere migliore è martedì perché sto facendo i sondaggi sembra che alcuni preferiscano il martedì per quanto riguarda l'orario invece sicuramente sarà dalle 18 alle 19 quindi o lunedì o martedì prossimo potrebbe esserci un'altra diretta alle 18 mentre invece poi ci sarà la solita giovedì prossimo alle 20 e 30 ora inizierei a rispondere alle domande via email e ricordatevi che potete mandarmi le domande prima via email perché così quando io poi vado in diretta inizio a rispondere dalle domande che mi avete mandato via email così qui vi potete guardare la registrazione guardate anche solo i primi minuti e avrete le risposte alle domande che mi avete mandato via email l'email ho messa come al solito in descrizione comunque info chiocciola marco cavicchioli punto it allora prima domanda che mi è arrivata via email oggi ce ne sono parecchie da quel che ho capito i bitcoin usciti dal mercato cripto quindi andati sugli etf sulla borsa tradizionale non potranno più se venduti rientrare nel mercato cripto e quindi non potranno più spostarsi sulle alcoli giusto no sbagliato nel senso che gli etf hanno proprio questa particolarità ovvero possono non solo comprare ma anche vendere bitcoin sul mercato e li comprono sul mercato li vendono sul mercato poi molto spesso non vanno sugli exchange fanno queste operazioni otc cioè over the counter con degli apposite piattaforme ma comunque li vendono sul mercato tant'è che quello che sta accadendo proprio oggi con il prezzo di bitcoin è in calo è dovuto alla vendita alle corpose vendite di bitcoin da parte di uno di questi etf quello di grayscale perché deve sapere che grayscale a il bitcoin trust di grayscale esiste dal 2013 quindi da praticamente quasi 11 anni prima non era un etf non poteva vendere e adesso invece è diventato etf finalmente sta vendendo era arrivato ad arrivare ad avere fino a 620.000 bitcoin adesso ne ha già venuti quasi 30.000 sembra che oggi ne abbia venduti altri 10.000 e quindi no i bitcoin comprati dagli etf possono rientrare sui mercati seconda domanda pensa che pensi che riflettendo sul lungo termine l'accentramento del possesso di bitcoin da parte dei fondi degli etf potrebbe essere un rischio per la natura decentralizzata di bitcoin questa domanda mi è arrivata a doppio nel senso che poi un altro mi ha chiesto secondo te l'approvazione degli etf su bitcoin rischia di portare una maggiore centralizzazione alla moneta che conseguenze potrebbe portare per il breve per il lungo periodo allora in teoria sì nel senso c'è il rischio di una maggiore centralizzazione perché perché chi realmente possiede gestisce quei bitcoin che vengono comprati dagli etf e il gestore del fondo gli etf sono dei fondi che non i proprietari ricordatevi che gli etf funzionano in questo modo comprano un asset e poi emettono azioni sul mercato così le persone sul mercato possono comprare azioni del fondo e diventarne in parte proprietari il fondo non fa altro che in questo caso possedere bitcoin quindi uno che è proprietario di una parte di quel fondo è anche proprietario di una parte dei bitcoin tra te che può chiederli indietro se voi avete delle azioni di uno di questi etf le potete dare indietro al gestore lui vi deve dare indietro i bitcoin però attenzione se in teoria è vero che questo potrebbe causare un po' più di centralizzazione perché abbiamo dei soggetti che gestiscono molti bitcoin tipo gris che è arrivata a gestire fino a 600 e 20 mila in realtà però questo vale solo se il gestore delle fondi dei fondi fanno le cose male perché se i gestori di questi etf fanno le cose bene quei bitcoin non appartengono a loro non possono farne ciò che vogliono appartengono ai proprietari del fondo e i proprietari del fondo possono cioè i proprietari delle azioni del fondo che sono anche proprietari del fondo possono richiedere indietro i bitcoin del del fondo dando le azioni cioè ad ogni azione corrisponde una certa quantità di bitcoin quindi è un rischio secondo me più teorico che reale però è in effetti cioè cioè non possiamo negare che che ci sia semplicemente sendo un rischio più teorico che reale probabilmente non avrà grosse conseguenze però una conseguenza ce l'ha attenzione gli etf si rivolgono ad investitori che sui mercati cripto in genere non ci sono cioè non si rivolgono a chi può comprare bitcoin e compra bitcoin sugli exchange si rivolgono ad altri quindi tutti i bitcoin che vengono comprati dagli etf per essere comprati da persone a loro volta che sugli exchange cripto non ci sono vengono tolti dagli exchange cripto quindi dovrebbero avere un effetto positivo sul prezzo sul lungo periodo perché per adesso non hanno avuto effetto positivo in realtà secondo me hanno già avuto un effetto nel senso che il prezzo di bitcoin a mio parere avrebbe già dovuto scendere sotto i 40 mila dollari sotto i 40 mila dollari nel weekend non c'è ancora sceso oggi che è sceso è a 41 mila quindi ancora ben sopra i 40 mila dollari e secondo me è solo grazie a questo effetto degli etf che il prezzo di bitcoin è ancora sopra i 40 mila perché altrimenti sarebbe sceso poi c'è grayscale che continua a vendere quindi se grayscale continua a vendere bitcoin magari più o poi scenderà anche sotto i 40 mila dollari e non lo saperemo vedremo nei prossimi giorni poi altra domanda cos'è esattamente il fear and greed index allora il fear and greed index ve lo faccio vedere ok quindi in modo che se qualcuno di voi non sa che cos'è eccolo qua dovreste vederlo adesso scusate c'è la pubblicità allora questo è il crypto fear and greed index in realtà lo chiamano crypto ma riguarda bitcoin eccolo qua vedete questo è il fear and greed index la cosa più importante in realtà è questa tabella in questo caso quella dell'ultimo mese come vedete era rimasto abbastanza stabile e alto poi era sceso poi è risalito adesso sarà di nuovo in basso perché questo è un dato che registra le variazioni del giorno prima quindi non abbiamo ancora le variazioni di oggi quelle che sono sono indicate come variazioni il dato di oggi in realtà si riferisce a ieri funziona in questo modo quando è 100 significa che c'è il massimo di grid cioè avarizie mi sembra che si traduca io lo traduco entusiasmo perché secondo me ha più senso e 0 invece il massimo della paura quindi l'indice della paura dell'entusiasmo 0 paura assoluta 100 entusiasmo assoluto in realtà non va mai a 0 e non va mai a 100 se proprio esagera va 10 9 8 o a 90 91 92 quindi se a 50 e neutro vedete altro giorno è dato 52 quindi è andato neutro ok in realtà che cosa fa questo indice questo indice fa un'unica cosa cioè misura il sentiment del mercato quindi un indice volatile ed è un indice non particolarmente significativo perché il sentiment spesso sbaglia spesso quando senti mette troppo alto significa che i prezzi stanno crescendo perché c'è un eccesso di entusiasmo e quando senti metto troppo basso magari precisano per aumentare perché c'è è un eccesso di paura però è interessante perché il sentiment vi dà un'idea di quella che potrebbe essere la domanda di mercato cioè se il sentiment è alto molto probabilmente la domanda di mercato è alta se il sentiment è basso molto probabilmente la domanda di mercato è bassa e io mi aspetto che questo dato domani sarà molto più basso rispetto a quello di oggi perché il dato di domani misura il calo di oggi oggi c'è stato un netto calo della domanda ma proprio serio è tornato più o meno ai livelli di domenica quindi dovrebbe tornare anche il sentiment più o meno ai livelli di domenica però questa domanda va avanti e dice è influenzato questo indice anche dalle transazioni sui DEX oltre che sui CEX i DEX sono gli exchange decentralizzati i CEX i exchange centralizzati no io credo di no anche perché i volumi di scambio sono bassissimi sui DEX e questo è un indice che valuta molto i volumi di scambio quindi io direi di no io direi che prende in considerazione soprattutto l'attività sui CEX sui exchange centralizzati ma non sui DEX o comunque in maniera marginale questo mandava ancora avanti dice prende anche in considerazione gli acquisti di bitcoin per gli etf no però prende in considerazione le conseguenze sul prezzo di bitcoin e degli acquisti di bitcoin per gli etf quindi non misura gli etf misura ciò che accade sul mercato di spot di bitcoin però questo a sua volta è influenzato dagli acquisti e dalle vendite degli etf per esempio oggi il problema sono le vendite da parte dell'etf di grey scale altra domanda via email c'erano ancora tre via email ok oggi sono arrivate tante a giugno 2022 l'analista di JP Morgan prevedeva un fair value di bitcoin di circa 40.000 dollari giugno 2022 più o meno era un po' di più ma qualche settimana prima era più o meno quella pensi che possa essere un valore di riferimento anche tra qualche anno dopo l'alving? ecco no io credo di no nel senso che dopo l'alving cambia tutto in genere si identificano i cicli del prezzo di bitcoin proprio come i periodi compresi tra gli alving quindi il primo ciclo è stato tra il ops è scomparsa un attimo la rete spero che mi vediate ok allora dicevo il primo ciclo è stato dal 3 gennaio 2009 fino al primo alving cioè novembre 2012 il secondo ciclo è stato da novembre 2012 a luglio 2016 quando c'è stato il secondo alving il terzo è durato fino a maggio 2020 quando c'è stato il terzo alving e adesso il prossimo finisce ad aprile 2024 con il quarto alving quindi dopo inizia un altro ciclo queste analisi cambiano da ciclo a ciclo quindi 40 mila dollari è un ottimo punto di riferimento fino all'alving tra l'altro ci tengo a precisare che se andiamo a vedere gli alving scorsi ok i tre alving che ci sono già stati il prezzo di bitcoin all'alving di aprile dovrebbe essere i 35 mila dollari quindi se ci arriva a 40 mila è già più alto ok comunque dopo l'alving inizia un altro ciclo e bisognerà rifare questi calcoli io non so dire se quali sarà il fair value di bitcoin dopo l'alving però siccome non sarà 40 mila dollari perché ti dice che sia lo stesso altra domanda è possibile vendere bitcoin senza passare dagli exchange sì è possibile però attenzione perché è rischioso esistono due sistemi per vendere bitcoin al di fuori delle exchange il primo è molto banale mettersi d'accordo con un'altra persona io me lo ricordo molto bene perché lo si faceva pensate via ebay io lo facevo via ebay nel 2014 nel 2013 2014 poi ho smesso il problema è che quando voi fate uno scambio una vendita un acquisto di bitcoin eh one to one cioè da persona a persona e se voi gli date i soldi e poi l'altro non vi da niente indietro siete fregati quindi fate attenzione io lo sconsiglio una volta si faceva perché non c'erano molte alternative ok poi sono arrivate le varie piattaforme quindi si è smesso di farlo adesso su ebay non caduto che lo faccia per nessuno però c'è anche un altro sistema esistono alcune piattaforme che mettono in collegamento le persone quindi per fare transazioni p2p cioè da persona a persona quindi senza passare degli exchange ma gestiscono la transazione in modo da evitare che ci siano truffe solo che queste piattaforme di intermediazione se non sono p2p come local bitcoins che poi alla fine era gestito eh richiedono comunque il kyc sappiate che ce n'è una che si chiama bisq con la q b i s q che se non sbaglio è una piattaforma p2p che consente di fare gli scambi one to one e se non sbaglio non ha nemmeno eh kyc quindi in quel caso si è possibile purtroppo i costi sono maggiori in quel caso cioè quella piattaforma dei costi maggiori degli exchange quindi alla fine conviene passare per gli exchange ultima domanda via email poi passiamo a quelle via chat se un giorno bitcoin dovesse smettere di essere volatile e fermarsi ad esempio a 300 mila euro non potrebbe essere che quel giorno ci possa essere una vendita di massa e quindi il prezzo potesse scendere potrebbe scendere in maniera importante forse quel giorno tornerebbe ad essere volatile e sì ti hai proprio hai anche messo la risposta sì proprio così cioè se un giorno bitcoin si ferma e non cresce più molto probabilmente o alcuni inizierà a vendere e diventa a quel punto volatile torna ad essere volatile quindi bitcoin è un asset che ogni tanto è volatile ogni tanto non lo è nel 2023 ci sono state intere settimane in cui praticamente non si muoveva in modo significativo poi di colpo si è mosso attenzione perché poi quando si muove non è detto che in realtà scenda ok cioè può scendere ma può anche aumentare quindi bitcoin secondo me non si fermerà mai nel senso ogni tanto potrebbe fermarsi per un certo periodo ma poi il periodo in cui la volatilità quasi si azzera inevitabilmente finisce a un certo punto magari dura qualche giorno qualche settimana o qualche mese o magari anche anche un poco probabile qualche anno ma poi torna ad essere volatile quindi alla fine secondo me semplicemente se dovesse accadere uno scenario come quello che hai descritto durerebbe per un certo periodo tempo ma non tantissimo partiamo alle domande via chat ok allora andiamo avanti perché grayscale tra sta liquidando allora fino a ieri stava liquidando per via dello sconto sul nave adesso cerco di farvelo vedere se lo trovo è grayscale discount scusatemi grayscale discount non me l'aveva presto eccolo qua allora questo che vedete è il grafico adesso non lo fa vedere bene perché dovrei dovrei usare la versione a pagamento comunque sotto lo vedete è il grafico dello sconto sul nave adesso vi spiego che cosa significa poi dopo ci ritorniamo su quel grafico allora i fondi come il grayscale bitcoin trust finita anche quando non era etf ma anche gli etf hanno una differenza tra la capitalizzazione di mercato cioè il prodotto del numero delle azioni per il prezzo in un dato momento di una singola azione e il cosiddetto nav il net asset value cioè il valore mercato di mercato degli asset queste due grandezze non è detto che siano identiche dovrebbero sempre essere allineate ma a volte si discostano ora quando si discostano che cosa deve fare il fondo quando la capitalizzazione di mercato sale troppo deve comprare asset quando scende troppo deve venderle gli etf possono farlo e quindi a seconda di questa differenza decidono se comprare o vendere questo è il modo con cui ad esempio nei giorni scorsi black rock ha comprato bitcoin perché la capitalizzazione stava salendo molto loro avevano un nav un nest asset del value inferiore e quindi ha dovuto comprare per alzarlo ok invece quando grayscale bitcoin trust non era un etf cioè fino a mercoledì scorso non potevano vendere quindi che cosa capitava capitava che quando la capitalizzazione di mercato scendeva molto perché venivano vendute le azioni di grayscale bitcoin trust il nav scendeva di meno e quindi si creava uno sconto cioè in altri termini una differenza negativa tra la capitalizzazione di mercato e il valore del nav come vedete non appena è stato si è iniziato ipotizzare che sarebbe diventato un etf questo sconto si è sempre più ridotto e oramai è quasi nullo perché dello 0,50 per cento quindi nei giorni scorsi l'etf di grayscale vendeva per far sì che questo questa discrepanza questo sconto si avvicinasse a 0 e però ieri praticamente si è avvicinato a 0 perché è arrivato a 0 50 quindi oggi sta vendendo per altri motivi tant'è che ieri quando uscita la notizia che lo sconto era oramai si era quasi annullato in molti credevano compreso io lo ammetto che grayscale avrebbe terminato di fare grosse vendite avrebbe venduto poco invece oggi si è scoperto che di nuovo spostato 10.000 bitcoin su coinbase ma allora perché oggi sta vendendo probabilmente perché i suoi azionisti cioè gli azionisti delle tf di grayscale stanno vendendo quindi probabilmente oggi si è verificata la situazione contraria cioè con il o meglio non scusate oggi probabilmente a forza di vendere le azioni di questo etf la capitalizzazione di mercato di nuovo scesa troppo e per allineare grayscale è stata costretta a vendere bitcoin quindi probabilmente tutto questo si è innescato grazie a causa scusate di alcuni clienti di quelli proprietari delle azioni delle tf di grayscale che hanno venduto mentre invece nei giorni scorsi probabilmente ha proprio grayscale che stava vendendo per allineare e questa purtroppo non è una bella notizia perché bisognerebbe che gli altri etf comprassero almeno quanto grayscale sta vendendo questo oggi non sta accadendo e quindi purtroppo siamo in una situazione di di calo ok ok poi andiamo avanti alcuni dicono che siamo all'inizio del bull market altri dicono di no tu cosa ne pensi allora secondo me in questo momento allora ci sono dei segnali che potrebbero far pensare ad un inizio del bull market ma sono ancora vaghi mi spiego in questo momento la possibilità che siamo all'inizio di un bull market secondo me c'è ma è bassa probabilmente bisognerà attendere l'alving o almeno o almeno il taglio dei tassi della fed c'è un altro dato ve lo faccio vedere che è piuttosto importante eccolo qua vedete quelle che sono le percentuali che danno i mercati per quanto riguarda i prossimi tagli dei tassi della fed c'è a perdere il 31 gennaio si quasi sicuramente i tassi saranno invariati il 20 marzo i mercati dicono che probabilmente al 43% i tassi rimarranno invariati ebbene tenete presente che questa percentuale fino a pochi giorni fa era il 19% quindi in questo momento c'è una preoccupazione da parte dei dei mercati sul fatto che forse erano stati troppo ottimisti nel ritenere che già a marzo la fed potesse tagliare i tassi con questo nuovo scenario il bull market di bitcoin è meno probabile e quindi se quella percentuale dovesse salire ancora probabilmente bisognerà attendere l'alving per avere forse un bull market tenete presente che l'alving da effetti dopo un po che non ne sono immediati non si può affermare che per ogni massimo c'è sempre una fase di scarico sì secondo me è corretto e il problema è il massimo tu come fai a individuare un massimo molto spesso il massimo lo individui solo dopo che c'è stata la fase di scarico cioè in questo è vero che il giorno del lancio degli etf presso bitcoin dato fino a 49 mila dollari e quello sembrava un massimo a tutti gli effetti ok e quindi c'è stata una fase di scarico però forza e si poteva anche ipotizzare che la fase di scarico fosse già conclusa invece è ripresa proprio perché oggi c'è questa particolarità di grace gay e sta liquidando più di quanto si pensasse quindi sì questo scenario ovvero che forse c'è stato un massimo e siamo nella fase di scarico potrebbe essere in questo momento quello più probabile secondo me è quello più probabile vediamo questa domanda bitcoin potrebbe scendere fino a 30 35 mila dollari come botton salvo cigni neri e poi ripartire sì assolutamente concordo forse a 30 mila un po basso ma 35 mila sì sicuramente cioè nel senso può non c'è nulla di strano cioè secondo me è già strano che non sia 40 mila dollari perché avrebbe già dovuto scaricare secondo me su quella cifra e se scarica a sotto se va sotto i 40 mila dollari potrebbe tranquillamente scendere a 37 38 mila da lì una capatina 35 mila ci sta 30 un po basso è però molto dipende veramente dal taglio dei tassi della fed perché se poi la fed veramente il 20 marzo taglia o se i mercati si si convincono che taglierà 30 mila dollari sono un po basso ok però giustamente tu fai scrivi salvo cigni neri perché se poi c'è un cigno nero potrebbe scendere anche sotto che a che livello andrà ethereum vuole entrare a conforza perché penso performerà meglio di bitcoin 2024 non so a che livello andrà però può darsi che performi meglio perché spesso in bull run ethereum performa meglio perde di più durante il bear market ma guadagni di più durante le bull run e quindi qualcuno dice meglio lunedì altri dicono meglio martedì magari adesso valuterò magari provo a fare una volta martedì una volta lunedì vediamo ok ha idea della notizia che potrebbe dare il ceo di paypal allora oggi il ceo di paypal ha detto che giovedì prossimo scioccherà il mondo è notevole come cosa ok no non lo so sinceramente che notizia possa dare però che possa scioccare una notizia che di paypal che possa scioccare il mondo deve essere potente e deve essere davvero davvero potente io spero che abbia a che fare con le cripto d'altronde paypal c'ha una sua stable coin non ha un suo etf su su bitcoin però forse non ha nemmeno senso che abbia un etf su bitcoin anche perché non è un gestore di etf boh chi lo sa magari lo integrano su x perché comunque pensateci bene x dovrà abilitare il corso del 2024 i servizi finanziari e magari integra paypal che ne so a buttoli così d'altronde ilon musk che il proprietario di x è stato uno dei cofondatori di paypal poi è uscito adesso lui con paypal non c'entra più niente però magari anche se a dire il vero x ha una partnership molto stretta con stripe che è un concorrente di paypal comunque vedere pensi che ci sia un etf pure su ethereum attenzione stiamo parlando di etf su ethereum spot perché poi sui future ci sono già e negli stati uniti perché gli etf su ethereum spot ci sono già in altre parti del mondo sì secondo me ci sarà anche un etf su ethereum spot la data prevista è a maggio mi sembra fine maggio dovrebbe arrivare la l'approvazione a meno che la sec non si metta di traverso la sec ritiene che ethereum che iter cioè la cripto d'altr di ethereum sia una security se la ritiene una security non approverà gli etf però sarà difficile dimostrarlo perché invece c'è una sentenza un tribunale che dice che xrp sui mercati secondari non è una security e quindi anche itilu sui mercati secondari non è una security questo è sicuro praticamente vedremo sarà molto interessante vedere come si comporterà la sec io credo che la sec non non potrà rifiutarsi nemmeno stavolta l'alt season è iniziato oppure no ecco attenzione ad una cosa perché bisogna distinguere tra l'alt season intesa come la grande bull run delle altcoin dalle alt season brevi a dicembre c'è stato un alt season ok guardate cosa ha fatto solano che però è durata solo un mesetto forse tutti stai riferendo non alle quelle brevi al season che ci sono ogni tanto ma ad una grande bull run delle altcoin no questa non è ancora iniziata spesso inizia solo quando c'è in atto una grande bull run di bitcoin e bitcoin si ferma a quel punto inizia una grande bull run delle altcoin spesso ok qua e quando avverrà quanto dovrebbe durare questo un po difficile tenete presente però che in passato quando si è innescata una bull run delle altcoin con bitcoin fermo è durata un mese due mesi circa però c'è da dire che a volte può anche essere maggiore può anche durare di più perché a volte parte già prima che bitcoin si fermi cosa sta succedendo alle stable coin tools di bainas all'attenzione tools cioè true usd non è di bainas viene usato da bainas poi bainas si forse ha qualcosa che fare col progetto però il problema di tools del proprio bainas nel senso che ha scelto di puntare su un'altra stable coin che si chiama adesso vado a dirvela perché non me la ricordo mai si chiama first digital usd fd usd quindi nel momento in cui bainas ha deciso di non puntare più su tools ma puntare su fd usd e molta gente ha iniziato a vendere tools e tools ha perso il peg con il dollaro cioè è sceso sotto un dollaro io credo che probabilmente lo recupererà questo questo peg con il dollaro perché molto banalmente lo ha perso per un eccesso di vendite che non perché abbia avuto problemi e solo che ovviamente dovranno capire come gestire la situazione anche perché tools era salito molto grazie a bainas bainas ora ha scaricato c'è ancora tools che però non è più la stable coin di riferimento prima era ovviamente boost cioè bainas usd poi è un progetto fallito boost è subentrato tools adesso c'è fd usd e quindi questo è quanto sta accadendo andiamo avanti come si possono regolarizzare i bitcoin acquistati via p2p quindi in genere senza fatture da parte di exchange gran bella domanda non so rispondere però una gran bella domanda perché non hai nessuna documentazione non lo so sinceramente qua bisognerebbe chiedere a un commercialista forse bisogna farsi fare un documento da un commercialista mi spiace non lo so le guerre che si stanno espandendo vedi pachita contro la siria la cina che minaccia taiwan potrebbe influire su tutti i mercati finanziari compresi quelli cripto sì assolutamente sì in questo momento io non vedo che stiano influenzando più di tanto i mercati ok fatemi andare a dare uno sguardo in particolare alle borse usa perché sono quelle che ci danno un'indicazione vado a prendere l'ultimo anno e no siamo lo standard impure quasi ai massimi ma i massimi non sono da un anno i massimi di sempre quindi in questo momento non stanno influenzando e però potrebbero potrebbero soprattutto nel caso in cui vadano a ridurre le forniture di petrolio perché se si riducono le forniture di petrolio o di gas aumenta il prezzo del gas e del petrolio questo fa aumentare l'inflazione l'inflazione fa sì che le banche centrali siano costrette ad avere politiche monetarie ancora più restrittive e questo diminuisce la liquidità sui mercati quindi la risposta è sì e queste cose bisogna assolutamente seguirle mi raccomando andiamo avanti bitcoin sta scendendo ancora solo il prossimo alvin potrà portarlo più in alto ma no non direi nel senso che se grayscale smette di vendere così tanto e prima o poi smetterà e gli altri continuano a comprare perché comunque gli altri tf continuano a comprare potrebbe anche rimbalzare prima c'è però da dire che questa correzione c'è adesso siamo sotto i 40 mila dollari come vi dicevo il prezzo di incremento e 40 mila quindi questa correzione è una correzione che in teoria dovrebbe arrivare fino a 40 mila dollari e poi magari scende ancora un po perché poi queste cose vanno così magari c'è poi eccesso di paura quindi si va si passa all'eccesso opposto e poi però magari dopo c'è un rimbalzo quindi io non dico che sia necessario aspettare l'alvin ok c'è però da dire una cosa e ricordate di che se dovesse ripetersi il passato all'alvin ci sia dovrebbe arrivare a 35 mila dollari quindi potrebbe esserci questo scenario cioè che si va fino a 35 mila si rimane lì fino all'alvin secondo me io continuo a essere dell'idea che una buona parte differenza la faccia la fed a marzo bisogna capire cosa farà la fed a marzo per capire ok quanto ti aspetti che sia il valore di bitcoin a del 2024 nel fine 2025 no questo anno mi spiace proprio non so rispondere non saprei faccio faccio troppa fatica diciamo che se dovesse andare diciamo fine 2025 che se dovesse andare a 150 200 mila dollari io non ci vedrei nulla di strano però non posso dire altro magari invece non c'è una nuova buona va a sapere ok sopra i 40k ritieni valga la pena continuare a comprare bitcoin come lungo periodo allora io dovete sapere che è da 30 dicembre che continuo a dire che 40 mila dollari sono una cifra abbastanza decisamente importante perché sono sono un po troppo per questo periodo ripeto il concetto stando al passato all'alvin si dovrebbe arrivare a 35 mila dollari quindi 40 mila quattro mesi prima dell'alvin o 5 perché in realtà è arrivato a 40 mila a inizio dicembre sono già tanti io sono sempre dell'idea che bisogna forse conviene quando quando il prezzo è salito molto conviene rinunciare e magari perdere un'occasione piuttosto che comprare e poi magari pentirsi perché il prezzo è sceso quindi io ritengo che 40 mila sia comunque una cifra abbastanza alta e lo è già da tanto tempo perché siamo a più di un mese e mezzo che è lì e quindi forse conviene aspettare ok però insomma per carità poi magari invece quello di oggi è solo un caso e poi magari il basso la spera ok ehm ah oggi è stata listata ondo un RUA RUA sta per Real World Assets che ha partnership con BlackRock e Goldman Sachs credo che la digitalizzazione dei token la farà da padrona eh tenete presente che si dice che l'RUA cioè i token la tokenizzazione di asset reali ok quindi non di asset digitali ma di asset reali eh possa essere eh un elemento importante della prossima bullern io non lo so può essere è un po' difficile tokenizzare gli asset reali eh quindi io la vedo come una cosa piuttosto difficile anche perché poi c'è sempre il rischio che siano considerate security token eh quindi è un po' complesso però sì è vero molti lo dicono potrebbe essere una cosa ottima perché tokenizzare gli asset reali consente di venderli a pezzettini cosa molto molto eh interessante soprattutto dal punto di vista dell'investimento e quindi potrebbe essere un trend estremamente eh interessante e quindi va seguito. A cosa è legato l'innalzamento delle eh transaction fees in bitcoin cioè eh dei costi delle commissioni per transazione? Allora qua devo fare uno spiegone tecnico mi spiace devo farlo per forza se non si capisce. Bitcoin ha due particolarità ok tenete presente che qua stiamo parlando solamente delle fee on chain cioè sulle transazioni registrate sulla blockchain se uno non vuole passare per la blockchain passa per l'IT network tutto il discorso che sto facendo non vale le fee sull'IT network sono sempre bassissime ok quindi si può anche non registrare le transazioni on chain. Allora per quanto riguarda le transazioni on chain Bitcoin ha due particolarità. Primo viene minato un blocco ogni circa dieci minuti. Tutte le transazioni on chain per essere convalidate devono essere inserite su un blocco e c'è un blocco solo ogni circa dieci minuti. Seconda particolarità nel protocollo Bitcoin c'è scritto che i blocchi di Bitcoin non possono pesare più di un megabyte. Sono già stati fatti tanti prese tante iniziative per cercare di far sì che ci stessero ci stiano dentro questi blocchi quante più transazioni possibili ad esempio con Segwit che scrive solo alcuni dati eccetera eccetera però in questo momento ci sono talmente tante transazioni che non ci stanno tutte. Vediamo se riesco a farvi vedere quante ce ne sono in attesa. Eccolo qua vi faccio vedere questo è un sito che permette di guardare la mempool. La mempool è praticamente all'interno dei nodi Bitcoin il luogo dove vengono registrate le transazioni ancora da confermare in attesa. In questo momento ci sono 280.000 transazioni in attesa. Tenete presente che in ogni blocco guardate qua ce ne stanno 2.500, a volte 1.400, a volte 3.000, ok? Quindi, anzi scusate i blocchi sono questi, ho sbagliato. Vedete 3.800, 3.100, 3.500, 4.200, ecco. A ritmo diciamo di 4.000 transazioni a blocco, è appena stato minato un blocco nuovo e prima che ne vengano approvate, confermate 280.000 ne passa parecchio di tempo, ok? Ora dovete sapere che questo significa che se uno vuole eseguire una transazione in Bitcoin, la invia con il wallet alla mempool, chissà quanto tempo passa prima che venga approvata, ok? Ricordo, un blocco ogni 10 minuti. Allora, che cosa si fa? Tenete presente che i miner che creano questi blocchi si possono scegliere le transazioni che vogliono. Quali sceglieranno? Quelli con maggiori fi. Quindi, quando uno vuole far sì che la propria transazione venga inserita nel prossimo blocco o al massimo in quello dopo, deve avere fi più alte rispetto agli altri. E quindi, dato che ci sono 280.000 transazioni in attesa in questo momento e il prossimo blocco ne conterrà 4.000, lo conterrà le 4.000 che hanno transazioni, fi maggiori. Ecco perché quando ci si trova in queste situazioni di congestione della mempool, le fischi sono alle stelle e purtroppo ci sono tantissime transazioni in attesa, anche perché qualcuno si è inventato una cosa che forse era meglio che non si inventasse, cioè la possibilità di creare una sorta di NFT su Bitcoin, chiamati Ordinals, che purtroppo stanno intasando la blockchain da un po' di tempo. E quindi purtroppo non c'è niente da fare. Cioè l'unica soluzione è passare per l'IT network che passa al di fuori della blockchain. In l'IT network le transazioni sono gestite da dei nodi che non hanno nessun limite, quindi accettano praticamente qualsiasi fi, non ne mette pochissime, anche un centesimo, anche mezzo centesimo di dollaro va benissimo e li accettano. Spero di essere riuscito a spiegare questo concetto che è tecnico, se no fatemi delle altre domande su questa cosa. Andiamo avanti. Non credi che tutte queste meme coin stiano rovinando il mondo cripto? Sì, a me fanno schifo le meme coin, ma non ho problema a dirlo, sono solo dei sistemi per cercare di portare via dei soldi agli sprovveduti, servono solo a quello. Sì, probabilmente stanno anche un po' rovinando il mondo cripto, basta che vedere quello che è successo con Dogecoin a inizio 2021, che veramente non ha per niente dato una buona impressione, ok? Poi pian piano, secondo me la gente ci farà abitudini, non credo che la gente continuerà per sempre a farsi prendere in giro, a perdere soldi con le meme coin, ok? Hai dato un'occhiata alla blockchain Pulse Chain fondata da Richard Earth? No, però ne ho già sentito parlare diverse volte, quindi sì, potrebbe essere uno di quei progetti interessanti da seguire. Andiamo avanti. Prima di approvare gli ETF si parlava di ingresso di miliardi di dollari, ma appena approvati, plof. Pensi che alla fine le cifre di cui si parlava ci saranno? Sì, penso che ci saranno. Attenzione, vi do dei numeri, così anche per farvi capire di che cosa stiamo parlando, ok? Prima dell'approvazione di questi ETF su Bitcoin Spot, quelli che c'erano già fondamentalmente grayscale, perché non erano un ETF, ma c'era già, in totale possedevano Bitcoin per una cifra attorno ai 30 miliardi di dollari. In realtà questa cifra è già salita 31 miliardi di dollari, ok? Quindi in realtà sta già, sarebbe già entrato un miliardo di dollari, ok? Solo che un miliardo è troppo poco, non ha avuto effetto, o meglio, l'unico effetto che ha avuto è quello di impedire che nei giorni scorsi ci fosse il ritorno sotto i 40 mila dollari, mentre invece oggi sta accadendo qualcosa del genere. Invece le cifre di cui si parla sono 100-200 miliardi di dollari, cioè si passerà da 30 a 100 o da 30-200 miliardi di dollari, ma non subito, ci vorranno non giorni, forse non settimane, ma mesi. Addirittura la previsione che dice che potrebbero arrivare 100-200 miliardi di dollari di nuovi capitali su questi ETF di Bitcoin lo prevede in due o tre anni, ok? Quindi diciamo 200 miliardi di dollari in due anni, quindi 100 miliardi l'anno, quindi meno di 10 miliardi al mese e in effetti in una settimana un miliardo è già arrivato. Quindi per carità, siamo in un momento in cui Grace Kaye sta scaricando, sta scaricando molto, mi sembra che abbia già scaricato un miliardo e sei, quindi non siamo in linea con la previsione migliore, cioè 200 miliardi in due anni, però siamo già superiori alla previsione peggiore, cioè 100 miliardi in tre anni. Quindi questa dinamica è già in atto, però pur adesso è troppo debole, bisogna aspettare che dia i frutti nel corso del tempo. Quando il totale degli ETF crypto sarà passato da 31, poi 31-32, poi 32-33, magari arriva a 35-40, allora potremmo iniziare a vedere questi effetti. Però, ripeto, se ipotizziamo circa 10 miliardi di dollari in ingresso al mese, o magari anche meno, ci vorrà un mese prima di arrivare da 30 a 40 miliardi. Io ho l'impressione, questa è la mia idea, che la seconda metà di gennaio sarà Bearish, cioè si scende. Spesso, in passato, la seconda metà di gennaio è stata così. Anche nel 2017, che tra l'altro è stato l'anno della penultima grande bolla, ci fu un picco clamoroso il 4 di gennaio, poi si scese di brutto, e si salì solo a febbraio. Quindi io mi aspetto che come altri anni, questa seconda metà di gennaio sia difficile, e i giorni che continuo a ripetere che l'ipotesi che in teoria dovrebbe scendere a 40 mila dollari, infatti sta scendendo a 40 mila dollari, e poi magari fa anche una cappatina sotto, il punto sarà a febbraio. Cosa capiterà a febbraio? Perché invece spesso a febbraio, dopo il calo di fine gennaio, c'è stato un rimbalzo. Quindi io mi aspetterei un rimbalzo a partire dai primi di febbraio. Allora lì sì che potremmo andare a misurare l'effetto degli ETF, quindi dovremmo attendere almeno due settimane. Secondo me, entro due settimane potremmo avere le prime indicazioni su qual è il reale impatto degli ETF sul prezzo di Bitcoin. Ok? Andiamo avanti. Ah, scusate. Ho letto un'ipotesi di aumento del numero di Bitcoin totali, mi sono chiesto se è possibile. No, è completamente sbagliata. Si riferisce ad un articolo pubblicato, mi sembra oggi o ieri, sul Sole 24 Ore, che conteneva un grossolano errore. Il numero di Bitcoin totali non può aumentare. C'è scritto nel protocollo Bitcoin, è impossibile che aumenti a meno che non venga chiamato il protocollo Bitcoin, che però nessuno può cambiare, quindi non vedo perché dovrebbe essere cambiato. Quello che può cambiare, attenzione, è il ritmo con cui vengono creati. Però ricordatevi che, a prescindere dal ritmo con cui vengono creati, alla fine ce ne saranno sempre solamente 21 milioni. Qua il punto è se si arriverà a 21 milioni di Bitcoin nel 2140, o magari prima, che ne so, nel 2100, o magari che ne so, nel 2080. Ok? Ma saranno sempre 21 milioni. L'unica cosa che può cambiare è il ritmo di creazione di nuovi Bitcoin, perché in questo momento vengono creati sempre e soltanto 6,25 Bitcoin ogni nuovo blocco. In teoria dovrebbe esserci un blocco ogni 10 minuti, ma in realtà ci vuole di meno. Cioè, lascerete talmente alto che i miner in meglio ci mettono meno di 10 minuti, quindi si arriverà prima del previsto ai 21 milioni di Bitcoin. Poi con il prossimo halving, i Bitcoin creati per ogni blocco diventeranno 3,125, cioè si dimezzeranno, e poi ogni 240 mila blocchi si dimezzeranno. Quindi inevitabilmente si va verso la fine. Al massimo, a minare quei 240 mila blocchi ci vorrà un po' di meno. Tenete presente che, stando a quello che disse Satoshi Nakamoto, ci sarebbero voluti 4 anni per minare 240 mila blocchi, invece è sempre stato di meno. Più o meno la media è 3 anni e 10 mesi. Quindi, comunque, il ritmo di creazione di Bitcoin è leggermente più elevato rispetto al previsto e forse potrebbe ancora incrementare un po', però semplicemente vorrà dire che si arriverà prima al market cap totale. Pensieri sui, no, mi spiace, non ne ho, non ho mai approfondito il progetto, quindi non saprei rispondere. Allora, questa che ho sarebbe l'ultima domanda in chat. Se volete fatene ancora, altrimenti possiamo chiudere la diretta. Allora, conosci un link dove controllare lo scarico di Bitcoin su Grayscale? Purtroppo no. È tutto il giorno che lo cerco. Quelli che ho trovato li ho trovati sbagliati. L'unico che esiste è questo, ve lo faccio vedere, ed è la pagina ufficiale dell'ETF di Grayscale, GBTC. Il problema è che non c'è il grafico giornaliero, non vi fa vedere quanti Bitcoin hanno, e i dati purtroppo vengono aggiornati il giorno dopo. Tant'è che i dati che abbiamo oggi, vedete, si riferiscono a ieri, cioè al 17 gennaio. Ieri l'ETF di Grayscale aveva 592.000 Bitcoin, ok? E domani aggiorneranno e questa cifra sarà inferiore, sembra che oggi ne abbiano venuti 10.000, quindi dovrebbe essere circa 582.000. ieri questa cifra era 605.000. Quindi purtroppo non abbiamo un link in cui controllare gli scarichi di Bitcoin e di Grayscale in tempo reale. L'unica cosa che c'è, vediamo se riesco a recuperarvela, è che qualcuno su X fa vedere gli indirizzi, le transazioni che ci sono sugli indirizzi di Grayscale. Ve lo faccio vedere. Io quando ci sono queste cose le condivido, vedete, questo è un tweet che ho fatto oggi. Andando a vedere proprio gli indirizzi di Grayscale, vedete, si vanno a vedere le transazioni, quelle dirette a Coinbase, si scopre che sono stati fatti degli scarichi, questi sono quelle di oggi e quindi oggi, vedete, si è saputo alle 5 ore fa, quindi praticamente alle 21-15 fa 16, alle 16 e 30, alle 16 e 16 e 30, si è saputo che Grayscale aveva spostato 10.000 Bitcoin su Coinbase, quindi probabilmente per venderli. Purtroppo si può fare solo così e quindi bisogna seguire X perché solo su X si hanno queste informazioni in tempo reale. Cosa ne pensi di Ethereum? Se approveranno le TF? Sì, l'ho detto prima, sì, io credo che lo approveranno e probabilmente il prezzo di Ethereum prima dell'approvazione delle TF potrebbe anche salire. L'approvazione dovrebbe arrivare a maggio. Vediamo. Se dovessi spiegare cos'è l'Hash è una persona neofita? È una persona che è già del settore? Allora, io credo che tu ti riferisca agli hash di Bitcoin perché l'hash è semplicemente una stringa alfanumerica, cioè una sequenza di numeri e caratteri, basta, tutto lì. Però in Bitcoin che cos'è un hash? L'hash è, o in criptografia in generale, è un codice che convalida, nel caso di Bitcoin, ad esempio, un blocco oppure che comunque convalida un processo di criptografia. Purtroppo questa è una questione talmente tecnica che ad un neofita secondo me non è possibile spiegarla in modo semplice. A chi è già del settore invece si può dire che i blocchi vengono compattati, compressi, cioè ci vengono messe dentro le transazioni e questo blob all'interno del quale ci sono tutte le transazioni, a questo blob, a tutti quei dati, corrisponde un unico hash che però va trovato tirando a caso. Cioè non lo si può calcolare, è talmente difficile che non lo si può calcolare, bisogna tirarlo a caso. Che cosa fanno i miner? Tirano a caso una quantità esagerata di hash. Pensate che una normalissima macchina ha una potenza di calcolo di tera hash al secondo, tera significa mille miliardi, cioè una qualsiasi macchinetta che costa 5.000 euro, tira a caso mille miliardi di hash al secondo, pensate quante macchine ci sono in giro per il mondo, siamo parli di cifre, davvero esagerate finché non becca quello giusto. Cioè quello che in effetti corrisponde ai dati inseriti nel blocco. Poi quell'hash viene inserito nel blocco, viene inserito anche in quello dopo e così si concatena. A cavolo stanno arrivando un sacco di domande. andiamo avanti. Ok. Cosa ne pensi del calcolo secondo il quale dal momento dell'alving il prezzo potrebbe aumentare di un fattore 1,8 per fino al suo massimo? Ma ci può stare, però potrebbe anche aumentare di un 5 per, ok? Secondo me è un calcolo, come dire, solo probabilistico, non preciso. Io non farei questo tipo di ragionamento perché può essere 1,8 per, può essere 2 per, può essere 3 per, può essere 4 per, 5 per, magari anche di meno, quindi no. Io non lo farei, ok? Cosa ne pensi di Monero? Io pensavo che Monero avesse un grande utilizzo perché è una delle criptovalute a più alto livello di privacy che ci siano e invece nessuna criptovaluta ad alto livello di privacy ha avuto un grande utilizzo. Forse perché c'è l'IT network che comunque consente un elevato livello di privacy e magari hanno subito la concorrenza, non lo so. C'è il problema che oltretutto molti exchange non le vogliono le criptovalute ad alto livello di privacy e quindi è un problema. Io sono rimasto deluso da Monero, pensavo che avesse molto molto più successo. Ok. Bon, direi che abbiamo finito. Non vedo altre domande. Vediamo, controllo ancora. Ok. Ok. Perfetto. A questa domanda cosa ne pensi di Push Chain? Ho già risposto prima. Non ci sono altre domande. Quindi direi che, allora, noi ci vediamo giovedì prossimo come al solito alle 20 e 30. Se poi volete, o lunedì o martedì, non ho ancora deciso, farò un'altra diretta alle 18 e poi deciderò qual è il giorno che va di più, poi lo fisserò. Cioè una volta che scelgo o lunedì o martedì sarà sempre quello. In questo momento sembra che prevalga martedì dai sondaggi che ho fatto, però siamo lì. Insomma potrebbe essere anche lunedì vedremo. Eh noi ci vediamo. Un saluto a tutti. Eh a giovedì. Ciao. 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 Ciao.